si parla di divinendi alti ma che siano forniti da aziende che siano stabili e sicure ci si trova spesso un bivio sul decidere uno o l'altro parametro o magari trovare un compromesso poco conveniente esiste però una strategia che potrebbe aiutare molti e si tratta dei dogs o daos dico di cosa si tratta e di quali siano le tre aziende migliori per il 2022 ma solo dopo la sigla ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio io come sempre sono pasquale il vostro investitore risparmiatore della porta accanto ed educatore finanziario ayer oggi parliamo di una strategia molto conosciuta fra gli investitori da dividendo e che comunque è molto apprezzata anche a livello internazionale i cani del dow jones dogs o daos ma di cosa si tratta dogs o daos è una strategia di investimento che tenta di battere il dow jones industrial average djia ogni anno orientando i propri portafogli verso investimenti ad alto rendimento il concetto generale è quello di allocare denaro ai 10 titoli blue chip con il più alto rendimento da dividendo delle 30 aziende che vanno a comporre il djia il dow jones industrial average questa strategia richiede un riequilibrio inizio di ogni anno solare poiché il dow è uno degli indici più antichi eseguiti al mondo e generalmente visto come una specie di barometro per il mercato più ampio e non è raro che gli strateghi del mercato basino alcune tecniche di investimento su alcune componenti che appunto fanno parte del dow jones il motivo principale di seguire i cani è che è presente una formula semplice progettata per funzionare più o meno in linea con il dow jones sebbene non sia un concetto del tutto nuovo questa strategia è diventata un appuntamento fisso per la prima volta nel 1991 in seguito alla pubblicazione del libro di michael b hohiggins beating the dow nel libro di hohiggins ha anche coniato il nome dogs of the dow dogs of the dow si basa sul presupposto che le società blue chip non alterano il loro dividendo per riflettere le condizioni commerciali per cui del mercato in generale e pertanto il dividendo è una misura di valore medio dell'azienda al contrario il prezzo dell'azione oscilla durante tutto il ciclo economico ciò dovrebbe significare che le società con un dividendo elevato rispetto al prezzo delle azioni sono vicine alla fine del loro ciclo economico e quindi il prezzo delle azioni probabilmente aumenterebbe più rapidamente rispetto alle società che hanno dividendi più bassi in questo scenario un investitore che reinveste annualmente in società ad alto rendimento da dividendi spera di sovraperformare il mercato in generale spesso i dogs of dow sono stati in grado di sovraperformare i dow jones industrial average nel corso dell'anno cosa molto interessante per chi ha una strategia che garantiscano rendimenti da capital gain e dividendi senza sacrificare uno dei due parametri l'idea di questa strategia di rendere la selezione dei titoli a quanto facile è relativamente sicura questa è l'ultima cosa perché l'universo è limitato ad azioni che sono blue chips come tattica il dogs of dow funziona in questo modo dopo la chiusura del mercato azionario l'ultimo giorno dell'anno si vanno a selezionare i dieci titoli delirici che abbiano rendimento da dividendo più alto del dow jones appunto perché appunto si vanno a seguire i dogs of dow il primo giorno di negoziazione si vanno a investire in porti uguali per ognuna delle dieci azioni prescelte mantenendo le posizioni per tutto l'anno e andando a ripetere la stessa strategia alla fine dell'anno e ripetendo questa strategia di anno in anno poiché questa è intesa come una strategia a lungo termine a bassa manutenzione che imita le prestazioni di dow jones industrial average non dovrebbe sorprendere che i risultati a lungo termine siano simili sono stati anni in cui il dow ha superato i dogs e viceversa ma le sue prestazioni nel tempo sono comunque impressionanti l'effetto cumulativo di questa performance anno dopo anno mostra che nonostante la grande crisi finanziaria del 2008 abbia perso più dell'indice la strategia ha recuperato terreno e ha tenuto una performance rispettabile in tutto il decennio che si era chiuso appunto col 2018 se si vuole fare un esempio pratico avendo investito 10 mila dollari e anche avendoli tenuti nella chiesa economica del 2008 fino al 2018 alla fine del 2018 l'ammontare dell'investimento nel dow sarebbe di circa 17 mila 350 dollari tuttavia se si fosse seguita la strategia del dogs of dow ci sarebbe ritrovati in tasca grazie alla grande differenza portata dai dividendi un saldo di circa 21 mila e 420 dollari più o meno 4 mila dollari in più quali sono le migliori tre aziende per questa strategia nel 2022 bene le prime tre sono le seguenti mi raccomando non sono consigli di investimento consiglia investire a prescindere ma sono solo le mie considerazioni di tipo didattico mi raccomando non sono un consulente finanziario per favore fate i vostri studi neanche falla apposta la prima azienda è dao che ha appunto il c il ticker di o w che non è niente a che vedere col dow jones dao infatti fornisce varie soluzioni di scienza per materiale imballaggi infrastrutture mobilità e applicazioni di consumo negli stati uniti canada europa mediorente africa india asia pacifico america latina opera attraverso segmenti di packaging e speciality plastics industrial intermediates ed infrastructure e performance materials and coatings al momento offre un dividendo del 4,2 per cento risulta fortemente sottovalutata con un piede di 7 mentre il settore al momento è con un piede del 17,4 azienda quotata dal 2018 ma solo perché scorporata dai vari business della du pont a 35 mila e 700 dipendenti una market cap di circa 49 miliardi di dollari la seconda azienda penso che la conoscono un po tutti si chiama verizon è il ticker vz verizon communication attraverso dei suoi sussidiari offre prodotti e servizi di comunicazione tecnologia informazione intrattenimento a comunicazioni a consumatori aziende enti governativi in tutto il mondo il suo segmento consumer fornisce piani di servizio post pagati e prepagati accesso a internet su computer notebook e tablet e anche apparecchiature senza fili compresi smartphone e altri telefoni inoltre offre anche i dispositivi internet abilitati wireless come tablet e altri dispositivi connessi abilitati wireless che comprendono anche orologi intelligenti i cosiddetti smartwatch fornisce inoltre soluzioni di connettività fissa residenziale come servizi internet a banda larga video e voce vende anche l'accesso alla rete agli operatori di rete virtuale mobile è stata fondata nel 1983 come bell atlantic corporation e cambianome nel 2000 anche qui sembra sottovalutata con un piede di 10 comparata sul settore di riferimento che ha un piedi 14 a un dividendo del 5 per cento ea 118 mila e 400 dipendenti con una market cap di 213 miliardi e mezzo di dollari americani anche la terza azienda penso che la conosciate tutti international business machine col ticker ibm questa azienda fornisce soluzioni e servizi integrati in tutto il mondo chi è che non la conosce l'azienda opera attraverso quattro segmenti di business software consulenza e infrastrutture e finanziamento la società era precedentemente nota come computing tabulating recording co international business machine corporation ed è stata costituita nel 1911 a sede ad armok a new york attualmente a 282 mila dipendenti e una market cap di 127 miliardi di dollari e l'azienda meno sottovalutata fra queste tre che ho appena detto dei punto dog of dow con un piedi 25 e mezzo contro il 29 del settore ma comunque da uno stupendo 4,67 per cento di dividendo per chi volesse prenderla in considerazione dogs of dow è una strategia interessante ma non la si deve considerare come il manto assoluto dei dividendi perché nessuna strategia è sicura al cento per cento per chi volesse la lista completa del dogs of dow con i dati per il 2022 presi il 31 dicembre 2021 è questa che vedete sopra la mia faccia in sovraimpressione così per qualche secondo evitate di vedermi in faccia ti ricordo che poi se vuoi prenotare una chiamata di educazione finanziaria trovi il link qui sotto per farla con me fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di queste tre aziende che ho preso in considerazione se le hai mai valutate una o tutte e magari se soprattutto hai già utilizzato la strategia del dogs of dow nei commenti qui sotto se questo video è stato il tuo gradimento ti chiedo di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su e per farmi crescere qui sulla piattaforma te costa un attimo della tua vita ma per me come sempre significa il mondo se sei nuovo sul canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche così che tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti e arrivederci a domani con un nuovissimo video ciao